bentornati amici crociati bentornati da questo video dalla macchina non avevo altra possibilità comunque lo facciamo lo stesso allora parliamo di ferralpi salò a parma finita 2 a 1 per il parma pecchia c'hai del culo cioè quest'anno cioè quest'anno non c'è niente da fare noi dobbiamo per forza vincere diciamo che allora parma che inizia bene diverse azioni mi hai là da fuori ci prova all'inizio poi alla fine facciamo un'azione meravigliosa che parte da una verticalizzazione di bernabè a centrocampo e la dà ciprienne ciprienne che di prima la dà boni che a sua volta di prima di tacco fa un assist magico per l'inserimento di miaila in area che batte spedendo il pallone in mezzo alle gambe di pizzignaco e parma in vantaggio a questo punto si finisce il primo tempo nel secondo tempo il parma purtroppo becca il pareggio della ferralpi salò che avviene con una palla messa in mezzo all'area di rigore bassa arriva sui piedi di dubixas spero che si dica così non lo so ma è marcato in contemporanea quasi da cercati e usorio che però non lo so cosa fanno stanno troppo lontano all'attaccante lituano e diciamo che ci vai tu che ci vado io non ci va nessuno questo qua l'occasione siccome il pallone era a pochi metri dalla porta di tirare e gol purtroppo becchiamo gol quindi c'eravamo in due ma siamo riusciti solo lo stesso a beccare gol però però succede la magia la solita fortuna in questo caso perché il parma sicuramente lo sappiamo che superiore però succede che esteves tira dalla da fuori area pallone che va a diciamo un pallone un bel tiro da fuori di esteves ma nulla di irresistibile però stavolta cosa succede succede che il pallone batte per terra e questo rimbalzo inganna inganna il portiere della ferralpi e quindi il pallone finisce in gol 2 a 1 parma e poi e poi succede ancora qualche azione ovviamente della ferralpi altrettanti rischi della ferralpi per ovviamente anche il parma che quando trova spazi lo sappiamo se ne mangia tanti ma ovviamente anche pericoloso ma alla fine alla fine la partita finisce così un commento rapido posso dire che quest'anno comunque ci vanno tutte bene perché anche questa partita qua poteva essere benissimo un pareggio e nessuno poteva dire niente il parma è stato superiore per solo per due cose il possesso palla circa 60 40 e i calci d'angolo che ne abbiamo fatti il doppio più 9 mi pare comunque a parte questo diciamo non si è visto quello che io volevo vedere cioè finire 3 o 4 a 0 la partita anzi abbiamo rischiato appunto di pareggiarla secondo me il parma è già mezzo in vacanza diciamo che quello che posso dire adesso che ormai secondo me in ogni caso abbiamo porto casi 3 punti adesso c'è la pausa e poi andiamo a giocare fra 15 giorni in casa col catanzaro partita che andrò a vedere lo stadio perché sono stato invitato come famiglia e quindi niente a questo punto sarò il tardini e niente però secondo me i giochi sono già fatti cioè siamo più 9 sulla terza e quindi secondo me i giochi sono già fatti cosa c'è da dire c'è da dire che se me caro kraus bisogna già pensare all'anno prossimo bisogna far fuori quella ciofeca di osorio mandarlo a giocare all'oratorio bisogna far fuori i balog ci teniamo secondo me valenti e cercati sicuramente io ovviamente tanti altri adesso non sto all'incarvi chiterrei però non è il momento magari faremo calcio marcato più avanti qualche commento ma ma diciamo che bisogna pensare la difesa sicuramente di prendere due diciamo persone affermate che possono fare la serie a e fare i cresciti nostri giovani ma non certo possiamo pensare di giocare titolari con valenti e cercati secondo me non pensiamo nemmeno di andare a giocare con osorio perché sennò veramente siamo messi male se giochiamo con osorio e balog in serie a secondo me rischiamo catarvi di gol e detta questa detta questa ovviamente il centrocampo ci può stare ma l'attacco secondo me serve un paio di punte veramente da serie a o un altissimo livello veramente altissimo o due medie ma però che ci consentono di non rischiare assolutamente nulla livello di retrocessione e giocarci magari un posto uefa sarebbe già bello arrivare in serie a e riuscire a essere competitivi per le competizioni europee almeno per la uefa non lo so magari sogno però io dico che se vai in serie a ti tieni così com'è la squadra senza prendere qualche bell'innesto specialmente in difesa e un puntero veramente forte secondo me rischi come il cagliari sta facendo di giocartela lì per non retrocedere a due punti avanti indietro sinceramente un campionato così anonimo e di sofferenza mi piacerebbe non farlo visto che il caro kraus adesso io lo voglio alla prova del 9 e cioè adesso che arrivi in serie a voglio vedere cosa fai sotto il profilo del calciomercato comunque ne riparleremo ragazzi io ho detto tutto sono comunque contento però ripeto ma c'è vincerla così non mi piace perché con la ferralpi penultima in classifica sinceramente vorrei sotterrarla nel senso buono del termine perché non si può rischiare di pareggiare con la ferralpi se lo secondo me c'è vista anche l'attuale situazione di classifica è imbarazzante e basta detto questo vi saluto sono stato brevissimo si vede che la macchina mi fa essere breve niente va bene saluti a tutti e ci vediamo per parma catanzaro e vediamo insomma ormai andiamo in scioltezza dai un saluto a tutti e forza parma dai crociati forza giallo blu ciao